ciao a tutti ciao a tutti e ben ritrovati sul canale siamo qui in due perché perché c'è stato un boom di commenti che volevano l'hull di Maison du Monde allora per fare il migliore occasione per farlo iniziale quindi vuoi mostrare la piccola busta perché adesso è mezza vuota perché pesa 10.000 kg quindi pesa anche il prezzo del portafoglio iniziamo subito vedrete solo qua e lì mi ha coperto tutto è una tovaglia sempre piccola è una tovaglietta per la colazione abbastanza colorata sotto il mio suggerimento perché bene sì suggerisco anche a voi uomini dovete suggerire queste cose le vostre idee quindi a volte suggeriscono bene avete visto guardate come te allora ho preso due quadrettini piccoli con delle scritte una caratteristica di Maison du Monde tutti questi quadrettini carini con le scritte motivazionali hai capito di cosa c'è scritto perché mamma mia allora lo vedrete sicuramente nel dettaglio enjoy every moment enjoy the little things hai capito quindi bisogna gioire di ogni momento e delle piccole cose perché diciamo la vita è fatta per gioire delle piccole cose non hai capito tanta roba delle cose materiali facciamo vedere mettiamo pure così guardate è già dei little things poi abbiamo mi passi qualcosa di lì sì posso prendere anche un caffè se vuoi sì grazie prego nella mia nuova tazzina non stiamo scherzando incredibile il caffè non c'è però tanta roba bellissima guardate tanta roba lo stile mamma mia una tazzina allungata bellissima c'è le tanti colori anche gialla tutta blu io preferito questa qui cose poche ma buonissime guardate qui lo fa vedere direttamente tanto per non farci mancare le tazzine mamma mia questo allora facciamole vedere credo che sia bellissimo guardate anche i sotto bicchieri incredibili le tazzine di legno incredibili non ne avevo mai visto una cosa del genere noi stile oriental ci piace quindi ecco mamma mamma mia pazzesco guardate anche il piattino ma faremo vedere tutto in dettaglio perché tanta roba bere il caffè in queste tazzine già ti cambia la giornata poi un regalino dio si è distrutto regalino che mi sono voluta fare è questa tazza bellissima ma direte una semplice tazza si ok però sempre la scritta motivazionale the best is yet to come quindi meglio deve ancora venire e poi una cosa questo è ricco credo che sia indispensabile guardate questo sia indispensabile credo sia indispensabile ragazzi io l'ho comprato solo ed esclusivamente solo per questo perché perché allora quando tu fai il 10 euro ormai usciamo tutto sentirà rumore ok il casino tutto ok allora questo è l'infusore per le tisane quindi voi fatevi la vostra tisanina poi questo cosino qui dove lo mettete e allora arriva in ballo lui cioè dai appoggiate qui perché voi siete appostissimo non vi dovete passare per andare a posare questo non so mai appoggiare anche un pazzonettino per appoggiare no no perché poi si imbagna questo è perfetto ragazze ditemi voi se non è utile questo piattino a parte che è deliziosissimo se vi metterei una salsina metterei un biscottino qualcosa ma non ne lo prendo dovete mettere il filtro dell'azione no 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 anche noi uomini questo era lo shopping delle donne ora passiamo a quello di noi tocca a me pure mi avete contagiato anche voi vedendo 3 miliardi di video di yankee candle ho detto vediamo che cosa sono stegli indietro cosa da sul sito che vi lasciamo qui sotto in descrizione si chiama essenza yankee e credo che sia il top non mi pagano per dire questo non siamo sponsorizzati per dire questo ci fa piacere perché essendo una delle prime volte che acquistiamo che ci hanno trattato abbastanza bene quindi merita merita di dire le cose che sia la verità le spedizioni sono super veloci e per ogni acquisto che facciamo ci manda un delizioso omaggio profumato quindi questa volta mi hanno mandato una mini come si dice non era una tarte quella tipo mattoncino comunque avete capito un'altra candela cosa ho preso però appena ho visto l'ho preso subito questa qui vuoi mostrare tu la yankee candle edizione barbershop incredibile ragazzi cioè guardate il dettaglio il packaging proprio è sfizioso è tipo stile tipo barbiere americano dove ci sono quelle specie di candele pazzesche questo è il gusto after shave cioè dopo barba maschile numero uno anche lei proprio l'ha impazzita appena sentito è impazzita è proprio sorpreso siccome mi piace sapete la montagna ho preso questa qui la yankee candle annaggia a voi perché non dovevo scoprirlo questo sì ebony e ok ed ok questa qui che la fragranza montagnosa cosa si può dire ci sono le pigne tipo spese di mangiare personale il vantone degli scoiatti sì ecco il cibo per gli scoiatti diciamo non lo so tipo ghiande le ghiande ragazzi non mi vediamo la parola di ghiande ecco e quindi abbiamo preso questa proprio dell'autunno night guardate qui sempre scura questa qui è proprio maschile fraganze maschili tanta roba ragazzi poi vedete tutto in dettaglio zoomatissimi e poi ho fatto un omaggio anche a lei che farà vedere io non me la distruggere perché ci sento allora tanto per cambiare il tema questa qui al tè bianco un po più delicato visto abbiamo preso 7 mila tazzine ricorda di te è buonissima santi e bianco al limone nel frattempo sentite il fumo dell'entrata cosa abbiamo preso anche qualcosa di qualcosa tipo scolastico vuol dire sì per prendere gli appunti visto che noi a noi piace programmare sia i video che tutto quindi ci piace pianificare il tutto quindi abbiamo preso soltanto che mi ha regalato cioè questo è suo allora sono dei planner che non trovavo da nessuna parte nelle librerie ha dovuto prenderlo online sempre in un sito che non ci sponsorizza si chiama legami o legami non lo so fateci sapere voi legami con l'accento allora sono dei planner quindi c'è lunedì martedì mercoledì giovedì ci sono tanti fogliettini vi faremo vedere credibile cioè costa un occhio giusto però vale la sua pena 5 ma questo è costato 5 questo è costato ben tigliati se non sbaglio questa tanta roba ragazzi vi faremo vedere tutti in dettaglio va bene se non è maschile questa è maschile con il scattando di campetto da calcio mamma mia e poi mi ha regalato questa super penna ragazzi non è un pezzo di legno sembra una penna incredibile bellissima e lei giustamente a tema a tema con le coccinelle non poteva mancare la penna credibile con la coccinella una margherita è un quadrifoglio qui quindi a due colori dillo che faccio regali belli dillo a me lo sottolineo fanno sapere fanno sapere che fanno sapere almeno cosa ti dimentichi faccio regali tanta roba ma tu fai sempre regali tanta roba c'è stato mai un regalo che non è stato diciamolo sottolineamolo questo sarà il primo di lunga serie se fateci sapere se vi è piaciuto questo video all in coppia se ne vedono pochi se ne vedono pochi online noi facciamo sempre qualcosa che sia un po diverso quindi fatecelo sapere ma mi raccomando questi pollici in su e fateci sapere il vostro film perché per noi è super importante quindi fatecelo sapere iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete se piace del video condividetelo mi raccomando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima ora ci tocca la tisana ciao 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 ciao